bentornato guti e bentornata continuiamo con lei il menu che si genera dal pulsante start è il momento di visualizzatore eventi che cos'è nella lezione 127 e rispettivo video tutorial che oggi ha dato un accenno per windows 7 windows 8.1 update è stato inserito anche in questo momento e quindi lo richiamiamo a cosa serve ti permette di prendere visione del registro in cui sono memorizzati in ordine e per categoria gli eventi occorsi al sistema operativo programmi e hardware del tuo computer ogni messaggio evidenzia dati di monitoraggio e questi messaggi possono essere interpretati per la soluzione dei problemi occorsi come si avvia naturalmente vai sul pulsante start con il tasto destro del mouse clicca su start ed individua la voce visualizzatore eventi cliccaci sopra avviata la sezione sulla sinistra troverai la lista delle categorie degli eventi da visualizzare cliccando sulla specifica categoria si srotolerà la lunga lista di eventi occorsi nella colonna centrale individuando un evento e cliccandoci sopra potrai ottenere informazioni dalla descrizione sottostante che potrebbero tornarti utili alla soluzione dei problemi qui un piccolo esempio dato che il registro non è unico quando si utilizza il visualizzatore degli eventi per la risoluzione di un problema è necessario individuare gli eventi correlati al problema indipendentemente dal registro eventi in cui si trovano per questo è utile impiegare i filtri per migliorare la visualizzazione degli eventi sui vari registri visto che otterrai un'enorme quantità di dati questo semplifica la visualizzazione di tutti gli eventi potenzialmente correlati al problema analizzato per specificare un filtro che si estende su più registri è necessario creare una visualizzazione personalizzata dopo aver creato la visualizzazione personalizzata e gli ordinamenti relativi alle varie categorie o sotto categorie e tipi di eventi è possibile salvare questo format questo formato che tu hai creato per non vanificare il lavoro di selezione in quanto spesso è molto complesso per raffinare la ricerca ed individuare l'evento che ti interessa per la soluzione dei problemi dando anche un nome alla visualizzazione è possibile più facilmente richiamarla in ogni momento inoltre è anche possibile salvare questo formato per importarlo su altri sistemi operativi o dopo ripristino o una formattazione per creare una visualizzazione personalizzata dal menu in alto azione cliccaci e col tasto destro del mouse cliccaci sopra oppure cliccando sul tasto destro del mouse su una categoria scegli l'opzione crea visualizzazione personalizzata scegli i filtri che ritieni necessari in termini di tempo tipo di evento se per registro per ordine e così via dai vari menu che si creano dai nome alla categoria con una descrizione in modo da creare una nuova cartella che utilizzerai per visualizzare questi eventi in base ai filtri che avrà impostato dopo di che clicca naturalmente su ok in seguito potrai variare i parametri di filtro da dei impostati eventualmente e come detto esportare il formato di visualizzazione rinominare o eliminare la cartella qui una schiera di opzioni disponibili per questa cartella relativa agli eventi che andrai a visualizzare a magine ti aggiungo altri due possibili impieghi del visualizzatore di eventi che però esulano dallo scopo di questa lezione puoi utilizzare per automatizzare risposte ad eventi specifici il visualizzatore eventi è infatti integrato nell'utilità di pianificazioni ciò ti consente facendo clic col pulsante destro del mouse sull'evento specifico di avviare una pianificazione di un'attività da eseguire quando un determinato evento si verifica per monitorare qualche specifico evento che si va a creare infine è possibile raccogliere eventi da computer remoti e attivarli localmente sul tuo computer con la funzione sottoscrizione di eventi quindi puoi gestire in remoto eventi occorsi nella tua rete di computer prima però di impostare una sottoscrizione è necessario configurare sia il computer di inoltro sia su quello di raccolta se vuoi saperne di più leggi la guida su come configurare i computer per inoltro e la raccolta di eventi link che metterò nelle note di questo episodio dopo aver configurato i computer è possibile creare una sottoscrizione appunto per specificare gli eventi da raccogliere in alto nella barra dei menu e nella colonna di sinistra ci sono dei pulsanti che più o meno replicano quanto abbiamo descritto finora prima di terminare ti rimando alla pagina della microsoft dove puoi ottenere informazioni dettagliate sul visualizzatore degli eventi anche questa a margine nelle note dell'episodio allora good andiamo in zona pratica clicchiamo con il pulsante destro del mouse su start individua visualizzatore eventi ricordo che il visualizzatore eventi in windows 7 era inserito nella sezione di strumenti di amministrazione come puoi vedere già si srotola una lista di eventi occorsi al computer in alto a sinistra trovi la barra dei menu che ti permette di impostare determinate cose menu che andranno anche a cambiare in base all'elemento selezionato qui trovi nella colonna di sinistra le cartelle attualmente presenti per la selezione degli eventi che andrai a visionare sulla colonna di destra trovi altri pulsanti che verosimilmente si possono generare cliccando con il pulsante destro del mouse sulla cartella o sull'evento che dovrai andare a visualizzare e ad interpretare o ancora grazie alla barra dei menu facciamo un piccolo esempio andando a selezionare elementi amministrativi qui trovi una lista di eventi amministrativi che anche se presentano dei simboli abbastanza critici dal punto di vista del colore a volte possono non significare naturalmente un problema grave nella zona in basso dopo aver selezionato il tipo di evento trovi una descrizione ed eventuali dettagli che potrebbero tornarti utile per l'interpretazione dell'evento stesso e la soluzione del problema come detto durante la descrizione teorica la lista di eventi può essere lunghissima per cui può risultarti abbastanza difficile se non impossibile individuare un evento quindi per migliorare la visualizzazione è meglio creare una visualizzazione personalizzata cliccando con il pulsante destro del mouse dal menu che si crea su una cartella puoi scegliere l'opzione crea visualizzazione personalizzata qui puoi decidere innanzitutto un filtro temporale quindi individuare se l'evento che devi monitorare è avvenuto nell'ultima ora 12 ore 24 ore e pure in intervallo personalizzato quindi puoi già ridurre notevolmente la lista di eventi occorsi poi puoi scegliere se il tipo di evento è riferito a livello critico avviso dettaglio oppure informazioni o semplicemente un errore puoi definire se lo devi andare a carpire dal registro degli eventi di windows in relazione alle applicazioni quindi se è un programma se è un problema di sicurezza se è relativo all' installazione o un evento di sistema o eventi inoltrati più genericamente quindi dalla lista di opzioni possibili tu potrai scegliere se selezionare tutti gli eventi di un determinato registro per il momento selezioniamo appunto registri di windows oppure potrai individuare se è riferito ad un'origine qui dovrai scorrere la lunga lista di opzioni qualora riuscissi ad individuare il problema relativo a ciò che scegli lo potrai selezionare come vedi ci sono anche sigle abbastanza difficili da comprendere magari con un po di pazienza e soprattutto con il problema che dovrai andare individuare se è un problema di sistema se è un problema di browser se è un problema di applicazione generica potrai individuare quale di queste voci selezionare per il momento lasciamo selezionata quella che avevamo in precedenza quindi dal registro di windows se il computer fa parte di una rete o ai diversi utenti potrai anche individuare inserendo in questo campo in questo campo il computer o l'utente che dovrai monitorare per individuare l'evento che poi eventualmente ti potrà portare al risolvere il problema per il quale sei andato a visualizzare questi eventi una volta che hai impostato i parametri di visualizzazione che tra l'altro in seguito possono anche essere variati cliccando su ok passerei alla nuova schermata nella quale potrai scrivere il nome della cartella e la possiamo chiamare eventi per questa specifica lezione una descrizione in relazione alla lista degli eventi che conterrà questa cartella che potrebbe essere eventi del registro di sistema dopodiché clicca su ok comparirà appunto la cartella eventi decudri e qui avrai riportato la lista degli eventi occorsi in base ai filtri che hai selezionato cliccando con il destro si apre un nuovo menu che ti permette di rinominare eliminare aggiornare visualizzare in un determinato modo gli eventi che andrai a selezionare individuare le proprietà della cartella e quindi magari cambiare il nome descrizione oppure modificare i filtri che in precedenza hai selezionato o da questa posizione oppure filtri visualizzazione personalizzata corrente quindi andrai a cambiare i parametri per ottimizzare la tua scelta anche nella colonna di destra una volta che hai selezionato l'evento o la cartella degli eventi potrai utilizzarla per ottenere alcune funzioni come l'eliminazione rinominare la cartella trovare un evento specifico magari relativo al problema che stai cercando o la cosa che può tornarti utile è salvare tutti gli eventi che stai visualizzando dando un nome e una posizione specifica per una successiva visione puoi anche esportare la visualizzazione personalizzata da questa opzione oppure cliccando con il pulsante destro esporta visualizzazione personalizzata quindi potrai impostare questo tuo formato di visualizzazione in base ai filtri che hai selezionato dando il nome andarlo a memorizzare in una cartella che tu prediligi in modo da poterla importare su un altro computer o magari dopo una formattazione o ripristino per una rapida impostazione di visualizzazione degli eventi in un altro computer quindi magari il senso di questa sezione è prendere visione e qualora il sistema operativo ti notificasse un evento corso o eventualmente un problema potrai andare in questa sezione e in base a dove si è verificato il problema potrai selezionare il registro dove verosimilmente si trova il problema o l'informazione che ti deve essere notificata andarla ad analizzare ed eventualmente porre le basi per la soluzione del problema state con un po di pazienza individuare l'utilizzo di questo visualizzatore di eventi particolarmente utile bene nella prossima lezione ancora in questa sezione ora come sempre un forte saluto ciao a presto da Thermional è stato un sogno per la prossima d'quisitos per la prossima fischere forato per la prossima zero che vive di zero carrots breakdown